Approvata dall'Aula la legge degli incarichi per i direttori con 24 voti favorevoli. L'Aula approva con moto unanimo una proposta di risoluzione per prevenire il sovraffollamento delle classi. Il 6 e 7 agosto torna a Castelnove e a Ardenga calici di stelle alle stelle dello spettacolo con musica, teatro e vino. Varata la nuova disciplina degli incarichi per i direttori. Cambia la disciplina degli incarichi dei direttori della struttura operativa della giunta regionale contenuta nella legge regionale 1 del 2009. L'obiettivo è quello di renderla coerente con i principi sanciti dalla normativa nazionale. Sulla base dei rilievi mossi dalla Corte dei Conti in sede di giudizio di parifica sul rendiconto della regione toscana per l'esercizio finanziario 2019, i direttori vengono collocati di nuovo nella dotazione organica della giunta regionale, definendo nel relativo trattamento economico ai sensi del vigente contratto di lavoro e area diligenza funzioni locali. La legge è stata approvata con 24 voti favorevoli, uno contrario e due estenuti. La proposta di legge arriva al dibattito in aula dopo un cammino tortuoso con un dettato normativo che è profondamente cambiato nel corso dei mesi ed è tornata in Commissione alla luce delle ultime indicazioni dell'ultimo Consiglio regionale, ha affermato il Presidente della Commissione Affari Istituzionali Giacomo Bugliani nella sua relazione illustrativa. Il risultato che si è raggiunto in Consiglio regionale con l'approvazione della legge sul personale è un risultato importante, direi quasi straordinario, per le modalità con le quali si è giunti a questo risultato. Io rivendico nella mia veste di Presidente di Commissione di aver articolato i lavori della Prima Commissione in modo tale da rivendicare in maniera anche prepotente la dignità e il ruolo che deve avere il Consiglio regionale, che deve avere anche l'attività che si fa in Commissione per l'approvazione delle leggi. L'indirizzo politico che avevamo maturato, che avevo maturato io come Presidente di Commissione, ma che aveva maturato anche il gruppo del Partito Democratico, era quello di dar vita ad un atto che fosse esclusivo recepimento delle indicazioni che ci erano arrivate dalla Corte dei Conti nel riportare le figure dei direttori e poi anche quella del Direttore Generale e del Segretario del Consiglio regionale nella pianta organica dei dirigenti. E così è stato fatto. Le uniche disposizioni che escono da questa approvazione sono il recepimento delle indicazioni della Corte dei Conti. Tutto quello che era estraneo a quelle indicazioni non è più contenuto nel testo di questa legge. Questo è il risultato di un'importante attività che si è svolta in prima Commissione e poi anche in Aula e questo soprattutto è il risultato di una ampia rivendicazione della dignità e del ruolo dei consiglieri regionali nell'esercizio della propria funzione legislativa. Più che di cammino tortuoso parlerei di una vicenda da telefilm appuntate, ha dichiarato Elisa Tozzi della Lega. Noi non abbiamo partecipato al voto, non abbiamo partecipato al voto in quanto, come dire, siamo arrivati alla fine di un iter che abbiamo definito in Aula quasi come un telefilm appuntate. Questo è un provvedimento che è nato per adeguarsi a delle prescrizioni della Corte dei Conti e è diventato un terreno di scontro di fatto all'interno della maggioranza. Un terreno di scontro che si è consumato appunto in Commissione attraverso una serie di tappe, di sedute che poi tra scontri più o meno latenti hanno portato al testo che è arrivato oggi in Aula. Quindi, come dire, una partita interna. Vedremo se poi il ruolo delle commissioni, che è stato anche fortemente rivendicato dal Presidente Bugliani, sarà e sarà mantenuto al centro dell'attività legislativa senza ulteriori tentativi di forzature da parte della Giunta oppure se assisteremo da qui ai prossimi mesi, ripeto, a un ulteriore scontro al quale noi, diciamo, come opposizione sicuramente ci apprestiamo ad assistere. La norma merita di essere approvata, ha dichiarato Stefano Scaramelli di Italia Viva. Due questioni che trovano spazio nella norma mi fa piacere ricordare. L'incarico del direttore, con durata da 3 a 5 anni, è una buona norma perché dopo tre anni, in una legislatura che dura 5, è corretto poter intervenire. Come pure la norma che permette di scegliere i direttori anche oltre il termine di 60 giorni perché non sempre si è pronta all'inizio della legislatura, ha detto Scaramelli. È una legge importante che dà autonomia alla politica, che consente di nominare ai vertici delle strutture regionali persone che hanno merito, competenza, professionisti che possono guidare quindi i ruoli apicali delle direzioni aziendali della nostra Regione, degli assessorati, quindi merito e competenza che tornano protagonisti, supremazia della politica, come corretto che sia, perché il mandato degli cittadini è nelle mani dei loro rappresentanti politici che provano possibilità anche di revocare i dirigenti, di interrompere le loro attività o periodi di durata delle nomine che possono variare dai 3 ai 5 anni e anche possibilità di farle anche dopo 60 giorni dell'insediamento. Quindi ci sono elementi positivi. Noi siamo stati fondamentali per fare in modo che questa legge arrivasse in aula e fondamentali per fare in modo che questi articoli, che sono poi il cuore principale della modifica legislativa, venisse poi approvata. Quindi rivendichiamo con forza il nostro ruolo e quindi rivendichiamo che la politica può appropriarsi diciamo di una squadra propria nel momento in cui molte volte la burocrazia o le funzioni tecniche sono dei limiti alle azioni anche legislative e di relazioni con i cittadini, allo sviluppo delle imprese per rispondere alle esigenze dei toscani. Fratelli d'Italia, sostenuta dal voto parlando di legge raffazzonata. Non si è parlato di nomine di direttori prima che qualcuno pensi che la regione stia nominando nuove figure ma semplicemente di un adeguamento della normativa esistente che c'è richiesta dalla Corte dei Conti. In pratica fino ad oggi i direttori venivano nominati dal neoeletto governatore una volta eletto e non c'erano limiti né indicazioni sulla durata dei contratti potevano essere nominati per la durata dell'intera legislatura ma anche soltanto per un anno e quindi dopo un anno poter essere sostituiti la Corte dei Conti ci ha imposto sia da un punto di vista economico di gestire i fondi a loro destinati in una determinata maniera sia da un punto di vista contrattuale di fissare le durate. Quindi era una legge dovuta, era un adeguamento dovuto, una richiesta della Corte dei Conti su cui si è montato un caso nazionale, abbiamo visto il presidente Bugliani e il presidente Gianni litigare, becchettarsi in consiglio, rimandare questa legge che ha subito emendamenti e controemendamenti era semplicemente una legge di adeguamento, una richiesta della Corte dei Conti da fare in 5 minuti il Partito Democratico in Toscana è riuscito a montarci sopra un caso e a farlo durare due mesi. Scuola, non al sovraffollamento classi, sia organico Covid. Le criticità prodotte dal sovraffollamento delle classi e la richiesta di attivazione dell'organico Covid anche per l'anno scolastico 2021-2022 sono al centro della proposta di risoluzione approvata dall'Aula con voto unanime e illustrata dalla presidente della Commissione Cultura Cristina Giacchi che si è concentrata sul dimensionamento della scuola pubblica, un sistema di norme complesso ferma al 2009. La risoluzione impegna la Giunta regionale ad attivarsi nei confronti del Governo e del Parlamento ponendo la questione anche in conferenza delle Regioni affinché, nell'ottica di evitare e prevenire le criticità derivanti dal sovraffollamento delle classi, si possa valutare una revisione della normativa vigente in materia a sollecitare il Governo affinché provveda ad attivare il cosiddetto organico Covid una delle novità dell'emergenza sanitaria pensato per sopperire alle necessità della scuola che al momento non risulta confermato per il prossimo anno scolastico 2021-2022. La Quinta Commissione ha proposto all'Aula una risoluzione che impegni la Giunta a chiedere al Governo due cose fondamentali. Una è la revisione della norma regolamentare che governa il dimensionamento della scuola cioè che stabilisce il numero minimo e massimo di alunni presenti nelle classi perché questa norma è vecchia ormai di molti anni e l'ultimo aggiornamento risale al 2009 e chiaramente non tiene conto delle necessità di distanziamento tra gli studenti che invece il Covid ci ha imposto e che ha visto la didattica sospendersi quando questo distanziamento non poteva essere garantito. Allora chiediamo che venga rivista questo limite e venga abbassato in modo che le classi siano composte da meno studenti e che si possa garantire la frequenza e presenza in sicurezza. L'altro punto fondamentale nell'attesa che avvenga questa importante modifica normativa è che venga predisposto anche per quest'anno l'organico Covid, il cosiddetto organico Covid cioè un contingente di insegnanti in più che consenta di fare più classi con minore numero di alunni per classe. Questa è una risposta di breve periodo, immediata, chiaramente implica un impegno di risorse importanti per il Ministero di Istruzione ma crediamo che il bene e il valore della didattica in presenza siano da tutelare e da salvaguardare in ogni modo con la ripresa di settembre. Sicuramente sono delle misure che sono utili ma dobbiamo pensare naturalmente a quello che è poi anche il benessere degli studenti all'interno delle loro aule e credo che sia necessario a questo punto cominciare a pensare anche a delle soluzioni differenti e modulari per gli spazi nel quale i ragazzi vengono accolti. Questo non soltanto nell'ottica dell'emergenza Covid e del necessario distanziamento ma anche per un benessere degli studenti e degli insegnanti all'interno delle aule e delle scuole. Bisogna dire che la Regione Toscana da questo punto di vista non è sicuramente ben messa perché abbiamo moltissime scuole, moltissimi istituti che non rispettano nemmeno i requisiti minimi e questo lo avevamo verificato con dei sopralluoghi che avevamo fatti negli anni scorsi. Quindi si parte da una situazione piuttosto negativa decisamente e sarà necessario quindi un'accelerazione da questo punto di vista perché non credo sia possibile accogliere di nuovo gli studenti in condizioni inadeguate con il nuovo anno scolastico. Studenti che hanno sofferto veramente molto per la didattica a distanza, la mancanza di socialità in questo periodo, il contatto diretto tra di loro e con gli insegnanti. Quindi tornare prima possibile alla didattica in presenza e al 100% e garantire anche la sicurezza deve essere una delle nostre priorità. Musica, teatro e vino a Castelnuovo Berardenga. Spettacolo dal vivo con prosa e teatro musicale a Castelnuovo Berardenga in provincia di Siena con il premio Calici di stelle alle stelle dello spettacolo edizione 2021. Il premio, giunto alla seconda edizione, è nato in piena pandemia. Il premio è forse l'unico caso in Italia se non in Europa di un premio che nasce durante i mesi del lockdown come risposta al disagio che hanno provato le categorie, i lavoratori dello spettacolo, gli artisti, ma non solo gli artisti, anche le maestranze in un lungo periodo di silenzio e di lontananza dal pubblico. In quel momento è nata l'idea di riportare luce su questa categoria e al contempo anche di riscoprire un turismo di qualità per il territorio della Toscana e quindi unire le due cose in un'area particolare come quella del Chianti Senese grazie anche a un'imprenditrice che è Laura Cellerini che ha avuto proprio questa idea di unire gli elementi dell'enogastronomia del vino che costituiscono proprio il premio, e questa è l'altra particolarità, agli artisti, alle stelle dello spettacolo dal vivo. Questo premio vuole proprio valorizzare questi aspetti, ritrovare un incontro col pubblico, riportare centralità a questi artisti che sono le eccellenze dello spettacolo dal vivo, ovvero sono tutti artisti con carriere riconosciute, che sono partiti e che ancora partono da quella che forse non è più molto di moda, che è la gavetta. Sono i giovani, sono artisti che vengono impegnati nelle principali produzioni del teatro musicale italiano, ma arrivano tutti da scuole, periodi di formazione molto lunghi in Italia e all'estero. I premi alla carriera sono ad artisti che hanno portato la nostra musica nel mondo. I nostri artisti verranno infatti premiati, oltre che con un manufatto realizzato da un artista, da un artigiano del territorio, con una bottiglia di vino, una magnum, che un sommelier sceglierà per ciascuno di loro, unendo quelle che sono le caratteristiche tecniche e umane dell'artista, dell'attore, del cantante, alle peculiarità organolettiche, alla struttura del vino stesso. Due le serate, la prima del 6 agosto, con una scena di gala e lo show un caffè con i cantautori, con il trio vocale Le Signorine. Il 7 agosto invece andrà in scena uno spettacolo in Piazza Marconi, dove a partecipare saranno alcune tra le più importanti personalità italiane dello spettacolo dal vivo, come Mariella Nava e il trio vocale italiano Le Signorine, Donatella Lamprese, Renato Crudo, Antonio Lanza e Simone Marzola, Marco Simeola e Francesca Nunzi, con la regia di Marco Predieri e la conduzione musicale di Elonora Beddino. L'anno scorso ho avuto la fortuna di partecipare al primo spettacolo di Marco Predieri e con l'assistenza di Laura Scellerini al comune di Castelnuovo Berardenga, nella sua piazza. Uno spettacolo, mi sono sentita una privilegiata a partecipare a quello spettacolo, di musica, di prosa, con delle scenografie che mi sono rimaste nella memoria per un inverno. Quindi ho visto il programma, sono ben contenta che venga riproposto anche quest'anno, sempre con nomi di rilievo. Ci portano a Castelnuovo Berardenga dei big dello spettacolo, dello spettacolo dal vivo e ci credo, sono sicura che realizzeranno come nel passato, come l'anno scorso, uno spettacolo che rimarrà nei cuori, in bocca al lupo, perché questa iniziativa continui, sia lo spettacolo, sia questo premio. Questo premio che è un connubio, il connubio tra il mondo, la cultura del vino e la cultura dello spettacolo. Non è, come abbiamo sentito, una cosa casuale, perché il vino verrà calibrato all'artista. Quindi un connubio sicuramente felice, costruito, che spero, ripeto, si consolidi nel tempo. Grazie a tutti.